Ciao a tutti ragazzacci, io sono Danielino77, nuovo prodotto di Geek Vape, una pod o forse una box e non è ben chiaro se il tiro sia di polmone o di guancia. Sta di fatto che oggi vi parlo della nuova Aegis Boost. E allora ragazzacci, eccola la nuova Aegis Boost di Geek Vape. Interno della confezione un cavetto di ricarica USB-Micro USB, un drip tip di ricambio diverso da quello montato sulla pod e una testina di ricambio, la Aegis Boost monta testine a mesh da 0,6 Ohm. Ed eccola qui, la Aegis Boost ricalca la forma e il design di tutte le altre Aegis. Nella parte bassa troviamo delle piccole scanalature per la fuoriuscita eventuale dei gas della batteria. sulla parte laterale ci sarà lo sportellino che alloggia la presa di ricarica micro USB. Come tutte le Aegis c'è la parte in pelle che favorirà un'impugnatura più comoda, per quanto poi in realtà questa pod sia abbastanza piccola. Parte frontale, il tasto power ed il tasto per alzare ed abbassare i watt. La andiamo ad accendere con i soliti 5 click e come vedete compare semplicemente ciò di cui abbiamo strettamente bisogno. Impostazione dei watt, conteggio dei puff e valore della resistenza. La resistenza in questo caso viene letta 0.42 Ohm quindi una lettura non precisissima visto che le testine sono da 0,6. Particolarità del drip tip sarà questo tappo che fungerà soltanto per una questione di igiene. Questo che vedete è il drip tip montato di default ma basterà toglierlo e potrà essere alloggiato l'altro drip tip che è quello che secondo me è semplicemente un'alternativa di comodità. Nella parte frontale troviamo questa rotellina che servirà come vedete soltanto per aprire e chiudere l'aria. Con aria tutta aperta avremo un tiro di polmone abbastanza contrastato, direi un tiro da flavor. Con l'aria tutta chiusa arriviamo anche a un buon tiro di guancia ma vedremo se funzionerà bene con il tiro di guancia. Sollevando questo tappino in gomma accederemo al foro per poterla ricaricare di liquido. Il valore massimo di watt a cui arriva questa pod sono 40 watt, alloggia delle coil a mesh da 0,6 ohm, batteria della capacità di 1500 mAh e credo che non ci sia veramente nient'altro da dire se non andarla a provare. Nelle mani da praticamente l'effetto della dimensione di un piccolo tubo come altezza e di una box quasi da singola batteria 18,6 e 50 in larghezza. Per comodità noi la definiremo una all in one visto che dentro si intercambiano delle testine. Allora ho impostato 30 watt, la provo con il tiro ovviamente di polmone con l'aria completamente aperta, Aegis Boost. Allora breve descrizione delle prestazioni, resa aromatica della testina secondo me buona, con le dovute differenze date le dimensioni con quelle sempre di Geek Vape sempre a mesh ad esempio del Cerberus, siamo più o meno sulla stessa linea di percezione aromatica. Livello d'alimentazione di queste testine secondo me è ottimo, non steccano nell'ambito di quei 30-35 watt si alimentano correttamente. Utilizzo del dispositivo in modalità polmonare, allora premettendo che non siamo di fronte ad un vero e proprio tiro di polmone ma il tiro è prettamente da flavor, quindi per chi non sapesse cosa significa un tiro polmonare un po' chiuso e contrastato, con il tiro di polmone la box si comporta bene e le testine a mesh già viste di Geek Vape, al di là poi del loro valore in ohm, secondo me funzionano bene. Mi sono piaciute anche queste del valore di 0,5 ohm soprattutto perché mantengono più o meno la stessa resa di quelle un po' più spinte ma chiaramente in un range d'utilizzo tra i 20 e i 30 35 watt, percezione di questo dispositivo a livello di tiro di guancia. Come al solito nonostante voi possiate chiudere l'aria ottenendo un ottimo tiro di guancia e nonostante voi possiate addirittura cambiare il drip tip mettendone uno più confortevole forse per il tiro di guancia, ricordo a tutti i cinesi che MTL non significa chiudere solo l'aria ma c'è bisogno di determinati accorgimenti e dal mio punto di vista una testina a mesh da 0,6 ohm non è adeguata al tiro di guancia, soprattutto perché il valore è troppo basso, dal mio punto di vista il calore è troppo e se si abbassano i watt la testina non lavora a regime, se invece si alzano per farla lavorare a regime dà troppo calore per un tiro di guancia. Mi viene in mente che forse testine lievemente più elevate pur mantenendo questo sistema di aria potrebbero dare magari delle soddisfazioni in più, quindi partite dal presupposto che categorizzeremo questa Aegis Boost in un tiro da flavor, punto. Pregi e difetti allora la batteria da 1500 mAh non è un male, anzi ha una sua durata, secondo me è sufficiente se voi decidete di utilizzarla facendo qualche tiro ogni tanto non stando sempre sempre attaccati a tirare e chiaramente aumentando i watt quindi arrivando a 30 35 forse anche 40 watt 1500 mAh non dureranno mai nella vita tutta la giornata. Ma forse il senso della pod polmonare come in questo caso potrebbe essere proprio quello di avere un pv piccolo, comodo, facile da ricaricare con cui ogni tanto fare un tiro magari che ci appaghi a livello di gusto, ma se io dovessi considerare questo il mio pv principale dando per scontato che io svapassi sempre di polmone probabilmente non mi garantirebbe quell'autonomia con i 1500 mAh utile. Mentre invece lo farebbe se io decidessi di avere una ruota di scorta dentro la borsa piuttosto che un pv dove tenere un liquido particolare e fare un tiro ogni tanto e allora un dispositivo piccolo e portatile potrebbe avere il suo senso. Qualità costruttiva, ottima come al solito, un medesimo l'alluminio zincato, la pelle, insomma tutto quello che in tutte le altre Aegis noi abbiamo sempre visto è stato riportato anche in queste dimensioni. La sostituzione della testina avviene aprendo la pod in questo modo, ma come vedete quando la pod è chiusa bisogna premere questo pulsante dove c'è scritto push che secondo me non è proprio comodissimo da aprire perché è un po' duro e io ci ho combattuto la prima volta per riuscire ad aprirla e nella parte sottostante come vedete c'è la pod che non fa altro che inserirsi quindi vi ho evitato la parte descrittiva dove levo la pod, la inizializzo, ci metto il liquido perché è una cosa abbastanza scontata e quindi riepilogone generale, comoda, piccola, ottima resa per il tiro polmonare, resa mediocre e secondo me inadatta per il tiro di guancia, assolutamente comoda per ricaricarla di liquido perché il tappino di gomma è messo nella parte alta ed è comodissimo da sfilare, scomodo invece il pulsante quindi il meccanismo, il click di quando si deve sostituire la testina non è la cosa fatta meglio che io abbia mai visto. Buona l'idea di inserire un tappo per l'igiene del drip tip, non altrettanto ottima la scelta di permettergli anche un tiro di guancia e la considero un'eventualità che Geek Vape ha fatto visto il drip tip alternativo e vista la possibilità di chiudere l'aria però tuttavia il tiro MTL è ancora un'altra cosa e non è decisamente questo. A voler fare proprio i pignoli qualche piccolo problemuccio di condensa ogni tanto sotto al drip tip ma tutto questo ovviamente ad un costo abbastanza contenuto. Ricordo a tutti quanti che esiste anche un modulo rigenerabile per questa Aegis Boost ma io non ne sono entrato ancora in possesso quindi non sono in grado di parlarvene. E concludo da quello che mi ha detto Geek Vape il display che avete visto in questo modello che è un modello sample ovviamente da test potrebbe non essere quello che poi troverete in commercio. Conclusione finale senso di esistere della Aegis Boost secondo me delle piccole all in one polmonari con testine intercambiabili assolutamente niente niente male. imparagonabile ai pezzi da 90 per il tiro di guancia anche nel mondo delle pod mod. Costruita molto bene peccato qualche svista forse negli incastri e nei sistemi di blocco sblocco per l'estrazione e l'inserimento del tank. Per tutto il resto ragazzacci vi aspetto nei commenti ditemi la vostra se l'avete provata se non l'avete provata cosa ne pensate io vi aspetto sotto al video e come sempre come al solito se il video vi è piaciuto mettete un mi piace condividetelo iscrivetevi al canale di danielino77 se non vi è piaciuto fate come cazzo vi pare un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao